oggi è il giorno più triste della storia dell'umanità dio viene ucciso dall'uomo però e allo stesso tempo anche il giorno più glorioso dell'umanità il giorno in cui dio trasforma il male in bene la morte di gesù diventa la redenzione di tutti gli uomini dio ha dato tutto all'uomo la rivelazione è arrivata al suo punto culminante andiamo anche noi oggi sul calvario mettiamoci ai piedi della croce accanto alla madonna versiamo le nostre lacrime di pentimento e portiamo a dio la nostra preghiera di ringraziamento per questo immenso dono di grazia gesù ha dato la vita non ha tenuto niente per sé e noi come risponderemo a questo grande amore in questo santo giorno le parole sono superflue lasciamo il cuore che si riempie di silenzio e facciamo posto a dio e al suo messaggio di amore in che modo risponderai al grande amore che dio ti ha dimostrato morendo per te quali sono i tuoi nuovi propositi di vita cosa suscita in te la morte di gesù sulla croce